Meno gastronomia, cultura e intrattenimento, il triangolo perfetto che dà vita ad una delle manifestazioni più attese dell'estate, apprezzatissima dai fanesi e tappa fissa anche per tanti turisti. Stiamo parlando di Around Fano, In Gir Per Fan, detta in dialetto, la passeggiata degustativa che in un colpo solo coniuga il divertimento, l'eccellenza del territorio e la scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi della città. L'iniziativa, arrivata al sesto anno di vita, organizzata dalla Proloco di Fano con il patrocinio dell'assessorato alla cultura e agli eventi, si svolgerà venerdì 11 agosto, come sempre, nel Centro Storico Cittadino. Per rendere ancora più gustosa la ricetta di In Gir Per Fan, quest'anno si è deciso di alzare la qualità degli ingredienti che la compongono. A partire dall'enogastronomia, lungo il percorso dei nove punti degustativi, i partecipanti avranno l'occasione di assaggiare specialità tipiche locali. Per chi vuole partecipare, i biglietti già in prevendita, ci sono al punto Iat di via Cesare Battisti e in quello del Porto, in piazza 20 Settembre al Bu Burger, al Bomber Bar alla cooperativa Tre Fonti, oppure a Torrette e i bagni Torrette, oppure anche quella sera, arrivando dalle ore 18 in piazza 20 Settembre, ci sarà la vendita dei biglietti. Grandi novità anche per la parte culturale della manifestazione che mai, come quest'anno, permette ai partecipanti di scoprire luoghi storici, chiusi da decenni, che sono rimasti nel cuore di tanti fanesi e che conquisteranno di certo quello dei turisti. Per noi come amministrazione è molto interessante questa modalità, perché prima sdrammatizza un modo di approcciare al luogo d'arte che è di altri tempi e noi vogliamo che sia sempre più inclusivo. Poi grande successo, tutta la città vive con la musica, con l'enogastronomia e con l'arte, quindi un mix vincente.